Allora, intanto buongiorno a tutti, ringrazio Francesco Rutelli per aver promosso questa riflessione su Roma. Siete molti, siete tanti. Volevo innanzitutto dire che come ho commentato con Francesco questa riflessione ha un senso solo se si verificano due condizioni. La prima è che va oltre la Kermess, che servirebbe abbastanza poco. Deve arrivare a delle proposte, a dei fatti concreti e all'identificazione di persone competenti, visionarie a proposito di vision e oneste. La seconda condizione è che dobbiamo partire da un'analisi e da una visione che sia assolutamente radicale, perché io ho la sensazione che la questione Roma sia una questione che vada molto al di là del problema pur devastante dell'amministrazione comunale dei 62 mila dipendenti e va anche oltre la questione Roma, perché probabilmente la questione centrale oggi, come mi è capitato di scrivere sul messaggero, la questione romana è addirittura più centrale della cosiddetta questione meridionale, piuttosto che la riemergente questione settentrionale per il futuro del Paese. Si gioca quasi tutto quanto qui. E allora vi do un paio di numeri di cui non si è parlato molto in questi mesi. Il primo numero è 80 miliardi di euro. Roma esporta all'anno 8 miliardi di euro, non 80. 8 miliardi di euro colloca questa città, questa provincia all'undicesimo posto in Italia per esportazioni. La provincia di Vicenza esporta più del doppio di Roma. Significa che Roma, anche se nell'esportazione, che sono un dato assolutamente centrale per capire il ruolo che una città ha nell'economia globale, ci mettiamo dentro gli introti del turismo e un pezzo del fatturato delle esportazioni di FI meccanica N e Leni, Roma esporta praticamente nulla, non ha praticamente un ruolo. Questo è un punto dal quale dobbiamo partire. Il secondo numero è un terzo. La spesa pubblica italiana, la spesa dello Stato, è per circa un terzo concentrata a Roma. Parliamo dell'ordine pubblico, mi fa molto specie quello che diceva il prefetto prima, dice che ci sono pochi poliziotti, ebbene noi in Italia spendiamo circa il 25% di quello che spendiamo in sicurezza nel Lazio e in misura molto consistente a Roma. Quindi questi due dati dicono di quanto sia vulnerabile questa città, una città che non è inserita nei circuiti dell'economia globale e che ha una dipendenza quasi totale da una pubblica amministrazione che è vulnerabilissima, perché il primo che finalmente riuscirà a fare una spending review seria non potrà che cominciare da Roma. Di fronte a questo scenario abbastanza drammatico, e bisogna partire dalla drammaticità, abbiamo bisogno di idee davvero radicali. Le idee radicali le troveremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, si spera con Francesco. Abbiamo provato in un paper division a dare qualche suggestione. Io ne direi soltanto una, ho accennato molto velocemente un articolo che mi è capitato di scrivere sul messaggero, la questione ambiente per esempio. A Roma le persone, di nuovo queste sono analisi abbastanza consolidate, passano in macchina più di 200 ore all'anno, mettendoci dentro pure i bambini vecchi, che più della doppia di quello che passa in automobili a Milano. Partiamo da quello, c'è una direttiva dell'Unione Europea, non lo dice quasi nessuno, che vorrebbe che le automobili alimentate con combustibili fossili siano dimezzate nel 2030, che siano azzerate nel 2050, partiamo da quello. E coinvolgiamo il Papa, perché il Papa, la figura assolutamente mondiale che risiede qui, ha con grande forza detto che la sfida ambientale è una delle due grandi sfide del mondo, l'altra è la sfida della povertà. Allora cominciamo da Roma, cominciamo anche dal giubileo a proporre, questa è un'idea ovviamente doveva essere proposta qualche tempo fa, un giubileo che fosse carbon free e distribuito come in parte il Papa sta proponendo e la politica romana e nazionale su questa è stato completamente assente. Quindi assolutamente radicalità con Francesco. Grazie. Grazie. Grazie.